È una corsa contro il tempo per trovare una sede al patrimonio documentale e bibliografico attualmente conservato nel Palazzo di Pietà di Piazza delle Erbe. Lo storico edificio del XV secolo ospita le collezioni Isbrek e Fondazione Angelini, oltre che le sedi del Circolo Culturale Bellunese dell'Archivio Storico Belluno-Feltre-Cadore. Metri cubi e metri cubi di libri e documenti, vincolati dalla Sovrintendenza per i beni culturali che cercano una sede adeguata, perché il Palazzo necessita di importanti lavori di adeguamento. Un'ispezione dei vigili del fuoco ha rilevato criticità in merito alle normative sull'antincendio, tanto che da giugno le biblioteche di Isbrek e Fondazione Angelini sono chiuse al pubblico. Sono garantiti solo i prestiti dei libri. Dopo la notifica dei vigili è necessario mettere a norma l'edificio, comporta un costo che noi come associazione APS non possiamo affrontare e pertanto è necessario che venga sciolta la questione del comodato o comunque del contratto d'uso da parte del Comune per verificare se vi sono le condizioni per poterlo adeguare, cosa peraltro abbastanza complicata in ogni caso perché l'immobile non è stato costruito per conservare documenti cartacei, soprattutto se vincolati alla sovrintendenza. La situazione è delicata perché da un lato il palazzo di proprietà della Fondazione Cari Verona è in vendita, ma la sua destinazione d'uso è vincolata dalla sovrintendenza. Dall'altro lato non è facile trovare spazi che abbiano le caratteristiche per conservare i libri documenti vincolati anch'essi. Una situazione complicata alla quale da tempo sta lavorando il Comune di Belluno in sinergia con Fondazione Cari Verona e le realtà coinvolte. Noi stiamo cercando di scongiurarlo in assoluto, stiamo avendo una buona interlocuzione con la Fondazione Cari Verona. Adesso vediamo se riusciamo a trovare la quadra e comunque è interesse del Comune che si sta spendendo veramente tantissimo di trovare soluzioni perché la nostra intenzione è assolutamente valorizzare le attività che ci sono all'interno, se possibile mantenere l'immobile perché uno e l'altro sono una ricchezza fondamentale per la cultura bellunese. che è una soluzione complessa, come ho detto prima, è un puzzle, un puzzle anche perché la tipologia di attività che è inserita nell'edificio sono attività complesse, che hanno beni preziosi, che richiedono una cura particolare, cura che noi abbiamo assolutamente intenzione di dare.